Caldo soffocante, afe e umidità, dai prossimi giorni l'anticiclone africano non darà tregua. Un'ondata di calore sta per investire l'Italia e sarà avvertita in particolare sulle regioni del centro-sud, ma anche nella nostra città le temperature sono destinate a salire. Non dovrebbero però superare le medie del periodo, la colonina di mercurio si dovrebbe assestare nelle ore più calde intorno ai 34 gradi. Mercoledì e giovedì saranno anche per Piacenza i giorni più caldi dell'estate 2013, che proseguirà anche nella prima decade di agosto all'insegna di un'umidità piuttosto marcata durante le ore del giorno e a fa soprattutto di notte. Si apre dunque quello che statisticamente è il periodo più caldo dell'anno, fra l'ultima decade di luglio e la prima di agosto infatti le temperature raggiungono mediamente i valori più elevati rispetto agli altri periodi dell'anno.